Il passaggio di consegne è molto importante e significativo, nonché anche molto commovente oggi? La sorella Mila Braghetti Peretti rappresenta un pezzo di storia della Croce Rossa importante, con lei io personalmente ho condiviso i miei sei anni di mandato e il corpo ha fatto tantissimi passi in avanti. La sorella di Aluce che raccoglie il testimone di fatto è stata la sua prima collaboratrice, quindi c'era tantissima emozione, l'hanno trasmessa, però come mi è piaciuto sottolineare è quella stessa emozione che tutte le sorelle, le Croce Rossine vivono quotidianamente nell'adempimento del loro dovere, che questo è l'aspetto bello, non c'è soltanto un aspetto formale ma dietro c'è tantissima umanità. Qual è il ricordo più bello che porterà della sorella Mila Brachetti? Il ricordo più bello è sicuramente un'assemblea che abbiamo fatto a Caserta, dove io ho visto veramente l'intero corpo stringersi a lei e questa sua, proprio sapere interpretare le donne del corpo delle infermiere volontarie. Lei è stata veramente un vero prima interpares, è stata una donna che non si è mai messa su un piedistallo, ma ha sempre saputo interpretare la voce delle Croce Rossine. Ed è importante questo, naturalmente? È importante perché il volontariato è una risorsa preziosa per il nostro paese ed è bene che comunque in un'associazione come la Croce Rossa Italiana ciascun socio e socia si senta adeguatamente rappresentato e ascoltato, quindi questo è uno degli aspetti fondamentali per mantenere anche questa volontà e voglia di fare all'interno dell'associazione. Invece che cosa vuole augurare alla nuova espettrice nazionale, la sorella Monica D'Aluce Gambino? L'augurio è quello di continuare a far crescere il corpo perché c'è tantissimo bisogno di attenzione e solidarietà. I valori che portiamo dentro e che portano dentro le Croce Rossine la ama, conforta, lavora e salva. È qualcosa di cui c'è particolarmente bisogno in questo momento nel paese. E quindi questo è l'augurio credo più bello che si possa fare, di essere all'attezza di questa grandissima responsabilità anche perché riceve il testimone da una donna che ha fatto tantissimo per la Croce Rossa. Avvocato Rocca, lei è il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Come si fa a diventare soci della Croce Rossa Italiana e perché diventare soci della Croce Rossa Italiana? Diventare soci è contattando una delle nostre tantissime sedi, sono oltre mille sul territorio nazionale e quindi è abbastanza semplice, c'è un corso di poche ore però che spiega qual è il significato di questo emblema che noi portiamo con orgoglio ma che è anche un emblema di protezione. Quindi va conosciuto dalla specificità anche a livello internazionale della Croce Rossa e perché se, come io credo sia giusto, dobbiamo sentire insolito, quindi sentire uno il peso per tutti e sentire quindi che siamo legati uno all'altro indissolubilmente, ecco, se si ha questa sensibilità donare del proprio tempo in favore di chi si trova in condizioni di difficoltà è importante. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie a lei.